Dio non si allontana mai dall'uomo. Non possiamo, allora concludendo, non seguire Maria per comprendere Dio. Come lo ha portato nel suo grembo per farsi uomo come noi, ora deve conservarlo nel cuore quando viveva con lui e conservare nel silenzio tutto quello che vedeva e guardarsi dal chiedere spiegazioni. Anche noi siamo chiamati a vivere questo silenzio senza interrogarci del perché delle nostre disavventure nel cammino di fede. Il mistero di Dio supera anche la mente di Maria ma trova spazio nel suo cuore. Anche per noi, carissimi fratelli e sorelle, che affrontiamo le fatiche del nostro vivere e del nostro pellegrinare ogni giorno in modo sicuro di non perdere Dio e conservarlo nel nostro cuore, amandolo e imitando la Vergine Maria e chiedendo la sua materna intercessione alla Vergine di Cesto Cova.